Ragazzi buongiorno, benvenuti in questo nostro nuovo video, guardate oggi dove siamo, innanzitutto io sono passeggero, la camie dietro che fa l'uncinetto, roba assolutamente moderna in una macchina così moderna come è la BMW i4 M50 di un nostro amico che l'ha appena ritirata, infatti sa di nuovo e adesso insieme a lui andiamo a provare la prima ricarica fast quindi veramente sono molto molto curioso di vedere l'efficienza, le performance, la velocità e soprattutto la curva di ricarica di questa macchina che è al 40%, quindi non sarà spaventosamente veloce ma sicuramente sarà interessante per capire l'efficienza della macchina. Ragazzi devo dire che il comfort è veramente spaventoso. Stiamo andando a una velocità piuttosto notevole e vi posso assicurare che rispetto alla Tesla la differenza è spaventosa, spaventosa. I flusci aerodinamici sono praticamente ridotti a zero e l'Iconic Sound sviluppato da Hans Zimmer è veramente molto molto coinvolgente perché ti crea relazione tra la velocità e il vero andare della macchina che è una cosa che insomma che molte persone criticano perché dicono insomma volete la macchina elettrica e poi volete il rumore beh in realtà qua abbiamo un po' tutti e due con un rumore studiato e sviluppato apposta. Come al solito il nostro riferimento del tunnel di Monza è per vedere l'illuminazione lounge della vettura e quindi guardate profili LED da tutte le parti, illuminazione su piedi, ovviamente personalizzabile su tutti i colori che desiderate. La macchina è dotata di fari BMW Matrix LED Laser con un'illuminazione che può arrivare circa fino a 500-600 metri quindi insomma potete capire la sicurezza di notte veramente veramente top. Ok ragazzi siamo arrivati adesso alla colonia di ricarica come potete vedere qua accanto a noi c'è una Model Y Performance che ha raggiunto il 100% di ricarica immagazzinato 29 kilowatt e guardate noi siamo appena arrivati con la macchina che era al 38% abbiamo avuto un picco iniziale che è arrivato fino a 178 kilowattora e adesso siamo a 133 kilowatt al 41% veramente notevoli in circa 20 minuti raggiungeremo il raggiungeremo l'80% di ricarica. Direi che questa BMW i4 M50 è veramente fantastica guardate l'estetica assolutamente cattivissima. qua potete vedere i fari BMW Laser e vabbè cerchi assolutamente top con uno pneumatico 245-40 R19 e nonostante tutto guardate dove siamo siamo alle nuove colonnine Free2X di Ninate quindi 10 punti di ricarica innovativi come devono essere per ricaricare le auto elettriche coperte da pensilina con colonnine a 300 kilowatt facilissime appoggi la tessera e il nostro amico è arrivato ha appoggiato la sua tessera BMW e ha iniziato a caricare senza alcun problema e questo il futuro che deve diventare presente. Beh devo dire che questo colore è veramente veramente fantastico guardate tutti i dettagli M gli specchietti specifici M vabbè i vari badge sparsi a destra e sinistra insomma veramente veramente un bel mezzo e la cosa che mi piace del progetto elettrico di BMW è il fatto che finalmente riesce ad integrare come ha fatto per anni Tesla auto performanti auto lussuose auto belle esteticamente con l'efficienza e l'efficienza è la chiave di volta dell'utilizzo delle auto elettriche avere efficienza ti consente di poter andare dove vuoi muoverti alla velocità che vuoi ed avere grande autonomia abbiamo registrato un consumo di circa 17 18 kilowatt ora che vuol dire 400 420 chilometri di autonomia andando a quei 120 130 quindi veramente veramente ottimo risultato siamo al 63 per cento e stiamo caricando 80 kilowatt ovviamente considerate sempre la curva di ricarica il fatto che la macchina comunque è arrivata con la batteria piuttosto alta quindi con il 38 per cento devo dire che è un ottimo risultato la Tesla non è che si discosta molto anzi a volte tende ad essere anche più bassa e la cosa bella è questa l'indicazione di BMW della stima dell'autonomia che te la dà quindi quando arriverai all'ottanta per cento vai a 339 chilometri d'autonomia e quando diciamo è questo il 275 è il dato istantaneo al momento della diciamo della ricarica quello che volevo farvi vedere un pochino ragazzi è come funziona il sistema della macchina io quello che ritengo fondamentale e ricordatevelo è veramente quello che vi serve per la scelta dell'automobile è la parte di navigazione perché vi semplifica la vita vuol dire che se tu qua imposti una destinazione come può essere Roma la macchina deve avere la possibilità di calcolare in maniera intelligente e automatica tutti quelli che sono gli stop di ricarica perché lì la svolta nell'utilizzo della vettura avere un sistema connesso integrato e intelligente come vedete in questo caso che ti dice durante la ricarica non è possibile caricare il percorso ok adesso che sta caricando non mi sa stimare il percorso ma una volta che saremo carichi lei mi saprà dire tutto la strada migliore da fare e soprattutto la quantità di stop di ricarica che io che io devo fare e quindi è veramente molto molto comodo come è comodo anche il fatto di poter diciamo selezionare attraverso dei comodissimi filtri tutte quelle che sono le colonine di ricarica attorno a me e te le indica come attive o non attive nel senso che qualcuno che sta caricando non sta caricando per dire questi siamo noi che stiamo caricando e queste sono altre colonnine e così facendo la macchina ha la possibilità di di fatto preriscaldare la batteria stimare l'autonomia insomma 100.000 funzioni di un prodotto veramente veramente molto 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 interessante quindi complimenti al nostro amico che l'ha comprata che per il momento è solo che entusiasta del passaggio al mondo elettrico e soprattutto complimenti anche a BMW perché è stata capaci di sviluppare veramente un progetto sviluppato a quello che è il modo di essere elettrico guardate siamo venuti giù e abbiamo fatto i 15,6 kilowattora su 100 chilometri quindi un consumo veramente molto molto buono perfetto ragazzi allora sono appena salito al volante della BMW la cosa che subito mi veramente proprio salta all'occhio è il fatto che ti pretensiona la cintura quindi è veramente veramente notevole come come roba allora in questo momento sono in modalità eco pro quindi il comportamento della macchina è sicuramente quello votato più alla diciamo all'efficienza e al massimizzare l'autonomia che in questo momento è del 74% o 300 chilometri la frenata rigenerativa è molto progressiva tu puoi scegliere due modalità diciamo di utilizzo la D che un po' come sull'ID3 sfrutta il radar anteriore di distanza per regolare in maniera adattiva la distanza di sicurezza e sfruttare l'energia e massimizzare appunto la frenata rigenerativa quindi in questo caso non avendo nessuno davanti la macchina tende a veleggiare per appunto lasciar scorrere la macchina invece mettendo in B si entra in modalità diciamo e-pedal o one pedal driving e quindi di fatto tu utilizzi la frenata rigenerativa sollevando il pedale dell'acceleratore come sulla Model 3 attraverso questo bellissimo pannello curvo che vi trovate davanti agli occhi potete personalizzarvi la schermata principale quindi potete passare dalla visuale del consumo alla potenza istantanea che la macchina può erogare ha pure un po' come sulla Tesla quello che le telecamere che circondano la macchina i sensori radar riescono a rilevare per vedere quello che è il traffico circostante in questo caso ho attivato il sistema di guida autonoma 2 che interviene in maniera veramente proattiva sul volante è infatti che io lo posso tranquillamente lasciare e la macchina mantiene perfettamente il centro della careggiata come diciamo una sorta di traffic jam quindi seguire la macchina davanti per copiare un po' quello che viene fatto si potrebbe attivare anche il cambio di corsia automatico ma guardate una bellissima BMW i8 ma in questo caso specifico stiamo ancora scoprendo come funziona e quindi ci limitiamo a utilizzare diciamo il cruise control adattivo con mantenitore di corsia ok adesso io ho messo la freccia e qua dallo schermo mi dice che c'è una macchina in combinazione con i sensori dell'angolo cieco che è presente sullo specchietto attraverso un triangolo giallo quindi direi tutto molto molto visibile quello che mi piace è la fluidità del sistema la velocità delle macchine nello schermo corrisponde alla velocità reale del sistema e lo sterzo guardate è capacitivo quindi basta sfiorarlo e capisce che c'è una presenza di fatto di un contatto di un contatto umano e la cosa bella è proprio il fatto che non è che come sulla tesla devi stare lì in continuazione a muovere le mani sul volante perché non le sente in questo caso basta sfiorarlo e la macchina capisce che c'è una presenza dietro efficienza 18,4 kilowattora siamo su una strada in leggera salita quindi direi un ottimo risultato insomma sei e mezza direi che siamo ufficialmente tornati a bordo della nostra super teslina per trarre un po' le conclusioni beh questa bmw insomma veramente veramente bella a me è piaciuta da morire mi è piaciuto guidarla le sensazioni che ti trasmette il volante una vera e propria bmw soprattutto con questa grande reattività questa qualità questo silenzio e questa tecnologia che sono inserite in un contesto moderno in un contesto differente sicuramente dall'approccio tesla ma veramente molto intuitivo a me è piaciuta tantissimo mi è piaciuta l'efficienza che come dicevo all'inizio è la chiave di un buon progetto accelerazione va bene insomma launch control spaventosa bellissima quindi complimenti al nostro amico io ringrazio tutti grazie per essere arrivati a questo punto se non l'avete ancora fatto ragazzi iscrivetevi al nostro canale attivate la campanella delle notifiche lasciate un like se il video vi è piaciuto e commentate fateci sapere cosa vi piace della bmw i4 m50 e soprattutto se volete che organizziamo un confronto una prova un viaggio qualsiasi tipologia di esempio o di curiosità che avete rispetto a quella macchina fate fatecelo sapere e vediamo di provare a metterci alla prova e di sapere anche quali saranno le opinioni dopo un paio di migliaia di chilometri del nostro amico a bordo della sua nuova bmw i4 ciao ragazzi